Musica Visto il successo della strena natalizia della scorsa settimana, Arte TV ha deciso di replicare la sua offerta e quest'oggi vi propone una serie di cataloghi con tre DVD a vostra scelta dalle linee Arte TV, Art Doc e Art Com. I cataloghi che oggi vi proponiamo sono Antologica Dinamica, Carlo Pace di cui abbiamo tanto parlato i giorni scorsi, Rick Prohl, Acque, Pittura come pittura, l'arte analitica degli anni settanta, il catalogo Visioni, inoltre per questa promozione natalizia abbiamo scelto per voi alcuni cataloghi pensate inediti e adesso vi farò vedere nel dettaglio quali sono. Abbiamo scelto Sottosopra di Gigi Montini, Manifesti per l'arte, Immaginazione di Franco Mazzucchelli e ancora Davide Orler e la punta di diamante signori di oggi. E Round Zero, il catalogo edito da Silvana Editoriale. 11 cataloghi più tre DVD a vostra scelta per 100 euro. E allora cosa aspettate? Regalatevi un Natale d'arte, un Natale con Arte TV. Grazie a tutti i nostri spettatori di Gigi Montini,